The Amazing Spider-Man del 2011, diretto da Mark Webb, una versione poetica e delicata del nostro eroe preferito. Wabalabadab dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Marvel, bentornati anche nella rubrica, diciamo, retro movie, anche se questo film è uscito ormai dieci anni fa, non è un film vecchissimo, però, ecco, non è un film che trovate al cinema, anzi, fate un po' fatica a trovarlo, perché anche sulle varie piattaforme di streaming non è facilmente reperibile. Io fortunatamente avevo il Blu-ray, era da tantissimo che non lo vedevo, perché magari guardavo di più il secondo per una questione puramente estetica, ma devo dire che come trama The Amazing Spider-Man 1 è davvero un bel film. Vado subito a spiegare perché. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega di condividere il video con tutte le persone che conoscete, che si arrampicano sui muri, e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo film e di questo video. Seguitemi anche sugli altri miei social, che oltre a vedere passare qui davanti, li trovate anche qua sotto, nella descrizione, come link cliccabili, insieme a tanti link Amazon che io vi consiglio. Facciamo un passo indietro, è il 2007 ed è uscito Spider-Man 3 con Tobey Maguire, sempre per la regia di Sam Raimi. Volevano addirittura fare un quarto episodio in cui Sam Raimi voleva che l'avvoltoio fosse niente po' di meno che Felicia Hardy, quindi Felicia Hardy invece di diventare la gatta nera sarebbe diventata l'avvoltoio. Francamente se fosse uscito in questa maniera Spider-Man 4 non l'avrei assolutamente apprezzato, oltre al fatto che per me la trilogia di Raimi ha una sua chiusura molto elegante che un quarto capitolo avrebbe forse rovinato. C'è anche da dire che la Sony per contratto allora, adesso non so bene come sono le cose, ma nel 2007 per contratto se per più di cinque anni non avesse girato un film con protagonista Spider-Man avrebbe perso i diritti cinematografici che sarebbero poi tornati in casa Marvel. Quindi cosa succede? Che nel 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 la Sony fa uscire The Amazing Spider-Man. Reboot, dopo appena cinque anni dall'ultimo capitolo, con protagonista Andrew Garfield, fresco del successo di The Social Network, e per la regia di Mark Webb, che al suo attivo aveva solamente una commedia, 500 giorni insieme, che a me piace tantissimo, e diversi video musicali. Infatti si nota molto questa impostazione romantica di questo Spider-Man, ma non è assolutamente un male. Non si sente assolutamente la regia autoriale forte, marcata di Sam Raimi, che a molti dà la sensazione che la trilogia di Raimi sia invecchiata male. In realtà non è invecchiata male la trilogia di Raimi, è che già allora c'era questa regia marcata che aveva un non so che di vecchio, è proprio lo stile di Sam Raimi applicato a Spider-Man. Qui non c'è una regia autoriale, c'è una regia un po' più mestierante, se così vogliamo dire, ma non è assolutamente un male. Non è un male che il regista si faccia un pochino da parte quando il protagonista e il personaggio è così potente. E giusto per differenziare un po' le origini da quello che abbiamo già visto nello Spider-Man del 2002, qui Peter Parker vive sempre con gli zii, Zio Ben e Zia May, ma diciamo che si vuole indagare un attimino di più sul perché vive con loro, perché non ci sono i suoi genitori, che fine hanno fatto i suoi genitori. Quindi vediamo una piccola premessa, un piccolo flashback in cui i suoi genitori pare che debbano scappare in tutta fretta da casa loro, lasciano il piccolo Peter agli zii. Quindi pare, sempre pare, che il padre di Peter Parker, Richard Parker, lavorasse alla Oscorp, quindi più o meno molto simile alla versione Ultimate dei fumetti di Spider-Man, lavorasse alla Oscorp insieme a Kurt Connors, e quindi non insieme a Eddie Brock, come nel fumetto Ultimate Spider-Man, e sfortunatamente morì insieme alla moglie Mary Parker in un incidente aereo. Questo come invece nella versione normale, nella versione classica di Spider-Man, in cui i genitori che pare fossero, non so se delle spie della CIA o dello SHIELD addirittura, morivano appunto in un incidente aereo. Quindi unisce un pochino le due cose. A parte questo flashback, viene subito introdotto un Peter Parker adolescente, in un contesto adolescente un po' più realistico, un po' più verosimile rispetto a quello, diciamo, edulcorato del 2002, dove fondamentalmente sì, c'era il bulletto, ma era un pochino più stereotipato il concetto del liceo nella versione del 2002, e anche un pochino più realistico rispetto alla versione con Tom Holland, dove fondamentalmente è tutto edulcorato, grazie a questa nuova linea della Disney, dove non si deve assolutamente parlare delle cose brutte, dove il bullo della scuola è un fighetto col cellulare, e non è assolutamente il bullo che ti prende a schiaffi. Qua invece abbiamo finalmente anche un pochino il tema del bullismo trattato meglio, meglio rispetto al primo Spider-Man, dove la versione di Flash Thompson è appena accennata. Qua vediamo forse il Flash Thompson trattato meglio di tutte le tre versioni di Spider-Man, al di là del punto di vista estetico, che è quello che ci somiglia di più, è biondo, è muscoloso, è un Flash Thompson che ti prende a pugni, ti prende in giro ma ti prende anche a pugni. E poi vediamo anche la sua crescita, tutta in questo film tra l'altro, in cui appunto si lega vagamente a Peter dopo la morte dello zio Ben, e vediamo anche la sua passione per l'uomo ragno nel finale. Ed è fondamentalmente una delle cose più vere rispetto al fumetto, perché appunto al liceo Peter non ha amici, non ha Harry Osborn come appare nella trilogia di Remy, men che meno ha Ned Leeds come nella futura trilogia con Tom Holland, perché Ned Leeds è molto più grande di lui e è un collega, diciamo, del Daily Bugle e non è assolutamente amico in questo modo. Qua forse la persona che più si avvicina a un amico è appunto il bullo Flash Thompson. In una scena fantastica iniziale, quando ancora Peter Parker non ha i poteri dell'uomo ragno, vediamo come fondamentalmente cerca di stare in disparte, non è sfigatissimo, non è la persona bullizzata da Flash in quel momento, ma allo stesso tempo non vuole nemmeno essere complice di questo bullismo, quindi nel momento in cui Flash chiede a Peter di fotografare un atto di bullismo, Peter si rifiuta e si mette praticamente in mezzo, diciamo, per interrompere questa cosa e si becca, quello che succede anche nella vita reale ve lo assicuro, quando vi mettete in mezzo in un atto di bullismo diventate voi l'oggetto del bullo, quindi si becca un pugno in faccia e viene appunto salvato dal personaggio di Gwen Stacy che nel fumetto anche Gwen conosce Peter all'università, però diciamo è comunque una ventata di aria fresca perché dopo tre film in cui Peter era un simp per Mary Jane, qua finalmente vediamo il personaggio di Gwen e lo vediamo anche trattato in modo molto diverso, insomma poi ne parliamo. La passione di Peter per la fotografia, dato che nel fumetto appunto diventa un fotografo freelance per il Daily Bugle, la vediamo sfruttata fin da subito, lui fa fotografia per passione, siamo nel 2011 quando gli smartphone sono appena accennati e vanno ancora di moda le fotocamere e le reflex digitali o analogiche che dir si voglia e Peter sfrutta appieno questa passione hipster che era in voga diciamo qualche anno fa, dieci anni fa. Vediamo fin da subito un Peter molto molto più intelligente di quello che può essere un semplice secchione da liceo, vediamo che addirittura suo zio Ben lo sfrutta per aggiustare gli elettrodomestici di casa, per sistemare casa chiede a suo nipote adolescente, per poi vedere appunto come grazie agli appunti di suo padre e grazie alle letture del libro di Kurt Connors riesce tranquillamente a risolvere un algoritmo che era lì fermo da anni dove gli altri non riuscivano a risolverlo. Ovviamente è stato aiutato dagli appunti di suo padre che nessun altro aveva, però da subito vediamo l'intelligenza di Peter Parker come sia sopra la media, così come nei fumetti. Laddove nella trilogia di Remy c'era una sorta di hangar militare dove c'erano questi progetti a scopo militare, qua invece vediamo proprio un palazzone che si prefissa uno scopo molto più scientifico, che poi quei progetti vengano usati in modi diversi, quello è un altro discorso, però vediamo proprio l'inclinazione molto più scientifica di questa Oscorp rispetto a quella della trilogia di Remy. Il tutto anche finalizzato al fatto che Norman Osborn, che in questo film non si vede, ha un problema di salute, ovvero sta morendo, viene detto all'inizio del film o a metà del film, e può essere che tutti questi investimenti scientifici siano finalizzati al fatto che lui non vuole morire, sostanzialmente vuole trovare una cura per se stesso. E sempre come in Ultimate Spider-Man, qua il ragno che morde Peter non è semplicemente ad una gita scolastica, come nel fumetto originale, ma come nel fumetto Ultimate, è sempre legato alla Oscorp, quindi il ragno che morde Peter è sempre un prodotto della Oscorp. Dicevo, Peter è intelligentissimo, ma non è il primo della sua classe, a quanto dicono, è il secondo della sua classe. La persona più intelligente della sua classe è Gwen Stacy, che appunto dovrebbe conoscere all'università nei fumetti, ma come nella linea Ultimate hanno introdotto il personaggio di Gwen già dal liceo. Sono stati molto furbi comunque a introdurre solo lei e non tutti gli altri che avrebbero potuto introdurre successivamente, per avere comunque un rapporto, oltre a quello con Flash, che è comunque minimo, per poter dialogare con il protagonista. Mi piace molto anche come viene trattato il rapporto tra Peter e Gwen, dove non è un Peter che muore dietro a Gwen Stacy, come nel primo film appunto era, nella prima trilogia, moriva dietro a Mary Jane, avrebbe fatto tutto per lei, e Mary Jane non era altro che la damigella in pericolo. Qui abbiamo una Gwen Stacy, protagonista quanto Peter, che purtroppo, nel senso a me non è piaciuta questa cosa, scopre da subito l'identità di Peter, o meglio, Peter rivela la sua identità segreta di Spider-Man a Gwen subito nel primo film. Una cosa che io non ho apprezzato molto, anche perché Gwen non ha mai scoperto l'identità di Peter nel fumetto, è morta prima. Però diciamo che con questo espediente narrativo abbiamo una protagonista femminile che è davvero protagonista e aiuta, grazie anche alle sue conoscenze scientifiche, aiuta Peter Parker nella sconfitta del nemico. Non ho amato tantissimo la genesi di Spider-Man, nel senso che è stato bello vedere come è capitato nel fumetto, che nel momento in cui viene morso sviluppa subito i suoi poteri, non ci deve dormire una notte in cui sta male. Però comunque, se ci fate caso, nella scena della Metropolitana vediamo comunque un piccolo flash in cui si vedono le sequenze di DNA, esattamente come nella versione di Raimi, e quando Peter ha questo senso di ragno che gli mostra il pericolo, gli fa sentire il pericolo, abbiamo quello stesso suono che avevano usato nella trilogia di Raimi. Avrebbero potuto cambiare un pochino, per esempio, nella trilogia, dico ancora trilogia ma non è ancora una trilogia. Nella versione di Tom Holland quantomeno il senso di ragno è trattato proprio in modo totalmente diverso. Il nemico di questo film appunto è il dottor Kurt Connors, che lavora niente poco di meno che alla Oscorp, quindi, come ho detto all'inizio, ha lavorato in passato con il padre di Peter Parker, Richard Parker, e adesso lavora tuttora alla Oscorp, e Gwen Stasi è una stagista presso la Oscorp, proprio perché è una delle più brave della sua classe in scienze. Come nei fumetti, Kurt Connors conosce Peter Parker fin dal liceo, mentre nei film di Raimi appunto il professor Kurt Connors era un insegnante di università di Peter Parker ed era stato appena accennato, qua invece lo vediamo proprio come un personaggio molto più approfondito. Se la genesi dei poteri di Peter Parker non l'ho apprezzata tantissimo, invece la genesi di Spider-Man come supereroe mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta anche molto di più, forse, della sequenza con vari tagli di Sam Raimi in cui mostravano i cittadini di New York intervistati da non si sa chi che mostravano di essere salvati da Spider-Man, qua vediamo proprio un po' una genesi alla Batman Begins, tenete presente che è il 2011, Batman Begins aveva appena sfornato nel 2005, Batman Begins e nel 2008 il Cavaliere Oscuro, quindi si cercava di dare un po' più quella linea, passatemi il termine realistica, ai film di supereroi, quindi anche in questo Spider-Man vediamo un po' più di cattivere, un po' più di rabbia, un po' più di verosimiglianza, tant'è che vediamo Peter Parker finalmente costruirsi lentamente il suo costume e una propria identità e anche un motivo per cui si costruisce questo tipo di costume, mostriamo che lui inizia a volteggiare, a volare per la città grazie ai lanciaragnatele che costruisce, ma non al fluido di ragnatele che costruisce, ma che riesce a recuperare dalla Oscorp, è un prodotto appunto a cui ha lavorato la Oscorp, probabilmente proprio da quei ragni che lo hanno morso. Lui comunque riesce a costruire un lanciaragnatele, a imbrigliare questo cavo della Oscorp per poterlo usare a suo vantaggio e vediamo come volteggia già per la città, semplicemente in abiti civili e con un passamontagna, ma di come si accorge che potrebbe volteggiare meglio con una tuta in spandex, quindi vediamo proprio una nascita alla Batman Begins del costume di Spider-Man e della sua identità di supereroe. Vediamo anche tutta la sua rabbia che riesce a sfogare per la morte dello zio Ben, vediamo anche la versione che incute timore di Spider-Man, vediamo in un primo piano molto, diciamo, che fa quasi paura, vediamo come un criminale vede Spider-Man, uno Spider-Man che ha davvero una forza sovraumana e può davvero spezzarti in due come un ramoscello, ma sfoga questa sua rabbia anche con una raffica di battute. Finalmente Spider-Man fa delle battute in continuazione, non è come lo Spider-Man di Remy che fa qualche battutina, forse fa due battute a film, se proprio vogliamo esagerare, e sono davvero pessime. Qua invece abbiamo uno Spider-Man chiacchierone che continua a parlare addosso al nemico, lo prende in giro, è fenomenale come hanno trattato questo aspetto di Spider-Man, che è forse uno degli aspetti più importanti di questo supereroe. Spider-Man è secondo solo a Deadpool per la chiacchierata ed è una chiacchierata da sbruffone quando è nelle vesti di Spider-Man, non è una chiacchierata da ho l'ansia e quindi chiacchiero, come quella di Tom Holland. Tom Holland fa proprio percepire come sia un bambino ansioso che deve parlare per scaricare la tensione, mentre lo Spider-Man dei fumetti e questo Spider-Man di Andrew Garfield mascherano la paura per quello che stanno facendo con le battute. Questa è la vera essenza di Spider-Man. In questo film c'è sempre l'aspetto di sfiducia verso Spider-Man che è anche maggiore rispetto alla trilogia di Remy perché quantomeno a parte il Daily Bugle qua vediamo comunque poliziotti e passanti che inneggiano Spider-Man, tifano per Spider-Man. Qua invece non vediamo nulla di tutto ciò, vediamo solo un vigilante che viene visto, intravisto dalla popolazione che come nel mondo reale si stranisce, non sa che cosa sta succedendo e vediamo la polizia che invece lo considera una minaccia. Quindi non c'è in questo film la figura del Daily Bugle come quarto potere, diciamo, come nemico di Spider-Man, ovvero che mette Spider-Man contro il popolo anche perché purtroppo in questo film il Daily Bugle è totalmente assente non c'è un JJJ, una cosa che davvero mi è dispiaciuta molto l'assenza del Daily Bugle come figura, come personaggio in questo film però questa figura viene presa, questo posto viene preso dal capitano Stacey, quindi padre di Gwen Stacey e in generale dalla polizia di New York. Anche qua il capitano Stacey era appena accennato nel terzo film di Spider-Man qua vediamo invece davvero un rapporto tra il capitano Stacey e Peter Parker lo vediamo crescere durante il film, un rapporto di sfiducia che lentamente diventa invece un rapporto di fiducia scopre l'identità di Spider-Man palesemente mentre nel fumetto l'aveva semplicemente intuita e vediamo anche qua, finalmente vediamo la morte del capitano Stacey rappresentata come è accaduto nei fumetti non c'è mai stata un'incarnazione così nella trilogia precedente anche perché si era appena accennato il personaggio di Gwen come personaggio, figuriamoci suo padre qua invece danno un fantastico risalto sia a Gwen che alla sua famiglia nei fumetti ovviamente era il Dr. Octopus che facendo cadere un comignolo dal tetto aveva ucciso il capitano Stacey qui è Lizard ma non è questo l'importante come può essere importante la morte di Gwen Stacey per mano di Norman Osborn è importante la morte stessa è come in questo momento dopo che anche Gwen ha perso un padre sia legata a doppio filo con Peter dove Peter ha perso lo zio Ben e Gwen ha perso il proprio padre quindi questo è una cosa ulteriore che li accomuna perché dico che questo film è più poetico rispetto allo Spider-Man di Sam Raimi? lo Spider-Man di Sam Raimi, soprattutto quello del 2002 era proprio figlio dell'11 settembre c'era stato appena, neanche un anno prima l'attentato alle teorie gemelle dell'11 settembre tant'è che c'è una scena, un easter egg in cui nel riflesso della lente di Spider-Man si vedevano le torri gemelle dove c'è anche una scena in cui, che ovviamente hanno tolto in cui Spider-Man intrappolava un elicottero guidato da dei criminali tra le due torri gemelle con una ragnatela dopo quello che è successo l'America ha sfoggiato il più alto senso patriottistico mai visto per reagire alla catastrofe e questo senso di patriottismo si era molto visto nella trilogia di Raimi non ne ho parlato tanto nei miei video in cui parlo di quei film però c'erano proprio delle scene di palese patriottismo dove i new yorkesi dal ponte tirano le sassate in testa a Goblin in cui Peter Parker svolazza davanti a una bandiera che sventola il vento degli Stati Uniti tutte queste robe molto palesi, molto pacchiane se vogliamo Mark Webb non ha questo senso pacchiano di patriottismo si vede comunque lo stesso senso patriottico che si è visto nella trilogia di Raimi ma in modo molto più delicato la sequenza in cui Peter Parker, in cui Spider-Man salva il bambino sul ponte quella macchina che è stata buttata giù dal ponte a causa di Lizard Peter Parker salva un solo bambino o quantomeno ci si concentra solo su quel salvataggio che rappresenta tutti i vari salvataggi di Spider-Man rende molto più giustizia al personaggio rende molta più poesia al personaggio che non tutta quella sequenza di salvataggi che Spider-Man ha fatto nella trilogia di Raimi e nel finale il padre di questo bambino si scopre che comunque ha modo di interagire con i macchinisti delle gru di New York che si sa sono sempre al lavoro sono sempre tantissime e in questa scena in cui Spider-Man è depotenziato perché si piglia di striscio un proiettile nella gamba che comunque lo ferisce quindi è molto più affaticato per affrontare il nemico finale viene aiutato proprio appunto dai new yorkesi rappresentati dal padre di questo bambino che era stato salvato da Spider-Man a sua volta all'inizio della sua carriera rende tutto un pochino più delicato un po' più poetico questa cosa mi è piaciuta davvero molto di più rispetto a come hanno trattato il tutto nel primo film di Spider-Man prima della chiusura finale parlo ancora un attimo del nemico e di un grande assente dunque la scena di Lizard nella scuola ricalca a piene mani la scena in cui Goblin fa irruzione nella scuola di Peter Parker in Ultimate Spider-Man quindi quella scena è proprio fatta apposta per citare una scena di Ultimate Spider-Man a molti non è piaciuto il design di Lizard ma devo dire sticazzi fondamentalmente e invece un grande assente che c'è che appunto che manca in questo film oltre al Daily Bugle è Harry Osborn ci tengo a parlarne perché poteva essere una linea molto interessante tenere assente Harry Osborn a farlo addirittura conoscere dopo la conoscenza del padre Norman così come nei fumetti però purtroppo hanno un pochino sminchiato il tutto con il secondo film ma poi ne parleremo la prossima settimana però diciamo che come avevo visto solo questo film l'idea che si prendessero con calma questa nuova nascita di Peter Parker di Spider-Man mi era piaciuta davvero tanto in questo film Peter Parker subisce non uno ma ben due lutti aggiungiamoci anche i genitori perché nel primo film non era accennata una morte dei genitori si poteva intuire qua invece si sa che sono deceduti quindi Peter ha perso i genitori ha perso lo zio Ben e ha sulla coscienza anche la morte del capitano Stacy il padre di Gwen della sua ragazza ma l'uomo ragno è questo l'uomo ragno è il senso di colpa il senso di responsabilità scaturito dal senso di colpa l'uomo ragno è formato dai suoi lutti non parlarne, rimuovere tutto questo non protegge i ragazzini dalla vita non li protegge dalla realtà anzi, non li fa maturare non mostra loro una parte della vita che in causa inesorabilmente prima o tardi dovranno affrontare e questo li lascia tremendamente dei bimbi ragno capito Disney? Peter è forgiato dai suoi lutti appunto dall'assenza dei suoi genitori dalla morte di zio Ben dalla morte del capitano Stacy e dalla morte futura che vedremo nel secondo film di Gwen Stacy forse il lutto più importante di tutta la sua vita il film si conclude in modo un po' copia in colla esattamente come quello di Rami con Spider-Man che volteggia per la città ecco un'altra cosa che non mi è piaciuta tanto di questo film è che in alcune cose non riesce a staccarsi da una trilogia che è finita appena 5 anni prima ma si conclude anche con un fantastico messaggio in segreteria di zio Ben verso Peter siamo appunto l'ho detto prima siamo nel 2011 c'è l'affacciarsi dei primi smartphone ogni ragazzino ogni adolescente ha un telefonino Peter ascolta durante il film questo messaggio in segreteria che zio Ben gli lascia prima di morire quando lo stava andando a cercare dopo che era sconvolto per una litigata che avevano fatto e si conclude con zio Ben che con le sue ultime parole gli lascia in segreteria Peter tu sei il mio eroe questo messaggio postumo in segreteria chiude il film se escludiamo lo svolazzamento finale tra i palazzi e devo dire che è proprio per questo che intendo quando dico che questa versione di Spider-Man è davvero molto poetica fatemi sapere voi cosa ne pensate scrivetemelo qua sotto nei commenti vi invito a riguardarvi il film di rivalutarlo e di scrivermi qua sotto se avevate un'idea diversa o una prima visione se l'avete rivalutato in positivo o in negativo scrivetemelo qua sotto e ne parliamo insieme io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti